Grossa delusione per le ragazze della CF Arezzo sconfitte nel finale a Parma dopo un calcio di rigore. Buona nel complesso la prova delle Amaranto che erano ospiti di una delle migliori formazioni del torneo. La partita si è messa subito male per l'Arezzo perché al decimo il Parma è passato in vantaggio sugli sviluppi di un corner. La palla rimessa dalla Di Stefano vede libera sul secondo palo la Nichele che non perdona. 1-0 per le padroni di casa. Il Parma ha due buone opportunità in seguito. Al diciottesimo con la Silvioni che è fermata dalla prontezza della Olzer e al ventiduesimo con un contropiede ma la conclusione della Ferrin va di poco sopra il montante. Nella ripresa al quarantottesimo pericolosa iniziativa dell'Arezzo ma la Diaz viene anticipata al momento della chiusura. Minuto 76 arriva il pareggio delle Amaranto. La carcassia atterrata in piena area dalla Williams. Calcio di rigore dal dischetto. Costanza Razzolini non perdola e realizza il pari. 1-1 sembrava fatta. Il Parma attaccato. Alla fine però si conquista il rigore dopo l'atteramento della Tuteri sulla ex compagna Ploner. Dagli 11 metri il tiro decisivo della Bella. Parma 2 a CF Arezzo 1. Grazie a tutti.